Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine, solito, usuale, consueto della mia libreria. Allora, 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 mi è tornata in mente una cosa che era già da un po' di tempo che volevo farci un video, ma che tra una cosa e l'altra ho, come dire, dimenticato, perché questioni di tempo, signori, ma cerchiamo di recuperare. Avete presente, avete mai sentito parlare della cosiddetta lista del Molibdeno? Che cos'è la lista del Molibdeno? Diciamo che al momento, prima dell'entrata in guerra italiana, l'Italia, Mussolini, inviò alla Germania una richiesta pressante di aiuti per prepararsi alla guerra prevista nel 1942-1943. Ok? Come ben sapete, Hitler anticipò i piani, Hitler se ne fregò bellamente delle promesse fatte all'Italia, all'alleato, e fece come gli pareva invadendo la Polonia. Allora, dal primo volume della Seconda Guerra Mondiale di Arrigo Petacco, eccolo qui, e mettiamola così, il Duce, diciamo che alla vigilia dell'attacco tedesco alla Polonia, Mussolini non era per niente informato dei progetti che andavano maturando nella mente di Hitler, che come ben sapete faceva sempre come gli pareva, senza mai consultare l'alleato italiano, nonostante le clausole del pato d'acciaio. Pur manifestando pubblicamente stima e ammirazione per l'alleato, il Führer si guardava molto bene dall'aggiornare fedelmente il Duce circa i più recenti sviluppi della politica estera tedesca. Sempre e comunque Hitler andava per i cavoli suoi, senza mai consultare Mussolini. Forse il suo comportamento, che può apparire così controverso, era motivato dal fatto che Mussolini ormai si era legato magne e piedi al carro tedesco e avrebbe comunque seguito la sua sorte. Per questa ragione una lettera del 25 agosto 1939, inviata da Mussolini a Hitler, colpì quest'ultimo come un fulmine a ciel sereno. Era una lettera nella quale il Duce, pur non tirandosi indietro dai patti presi con il patto d'acciaio, avanzava tante pretese e tante riserve, chiaramente studiate ad arte, talmente tanto da far dire a Hitler che gli italiani si stanno comportando come nel 1914. E qui giunge il fatto della famosa lista del Molibdeno. Allora, questo è il testo integrale della lettera in cui Mussolini, preannunciando il futuro atteggiamento dell'Italia, prendeva praticamente posizione per la non belligeranza. Allora, quanto all'atteggiamento pratico dell'Italia nel caso di un'azione militare, il mio punto di vista è il seguente. Se la Germania attaccherà la Polonia e gli alleati di questa nazione inizieranno il contrattacco verso la Germania, vi informo in anticipo che sarà opportuno per me non prendere l'iniziativa in operazioni militari, dato l'attuale stato di preparazione bellica italiana, circa la quale ho ripetutamente e in tempo utile informato voi, Führer e Herr Ribbentrop. Perché, ricordiamoci, come ho detto più volte, l'economia italiana era stata letteralmente distrutta dalle avventure coloniali in Libia, dalla conquista dell'impero in Etiopia e dalla avventura in Spagna, che erano state un sanguinoso salasso per la nostra economia e per le nostre forze armate, per le nostre scarse risorse. Non di meno il nostro intervento può aver luogo senza indugio se la Germania ci invierà immediatamente le forniture militari e le materie prime per resistere all'attacco che la Francia e la Gran Bretagna dirigerebbero principalmente contro di noi. Nei nostri incontri la guerra era stata prevista per il 1942 e per quell'epoca io sarei stato pronto in terra, in mare e in cielo secondo i piani stabiliti. E qui, comunque sia, ci sarebbe da discutere perché sappiamo bene che la pianificazione e la preparazione, insomma, come dire, le pianificazioni a lungo termine per noi erano argomenti un pochettino ostici, ma rimando anche ad altri video sull'argomento, rimando anche alla lettura di questa fondamentale opera intitolata La meccanizzazione dell'esercito fino al 1943 di Lucio Ceva e Andrea Curami assoluta Bibbia a proposito della materia. Allora, continua Mussolini dicendo che «Sono inoltre dell'opinione che le misure puramente militari già prese e le altre che si prenderanno in seguito immobilizzeranno in Europa e in Africa ingenti forze nemiche. Considero mio sacro dovere di amico leale dirvi l'intera verità e informarvi in anticipo della situazione reale. Il non farlo potrebbe avere deprecabili conseguenze per tutti noi». Allora, questo è per dire che Mussolini sapeva benissimo della nostra criminosa e criminale in preparazione agli eventi bellici. E questo dimostra anche come Hitler se ne fregò allegramente del suo principale alleato che più che alleato sappiamo bene essere un vassallo che si era legato mani e piedi al carro della Germania. «Questo è il mio pensiero e dato che fra breve dovrò convocare i più alti organi del governo vi prego di farmi conoscere il vostro». Allora, in risposta a questa lettera Hitler inviò a Mussolini la seguente nota «Vi prego di comunicarmi quali mezzi e quali materie prime vi necessitano e dentro quali tempo affinché io sia in grado di giudicare se e in quale misura io posso soddisfare le vostre richieste». In pratica, Hitler abbozza e dice «Benito, dimmi che ti serve se posso te lo mando ti mando quello che posso». Il Duce coglie l'occasione e non perde tempo. Insieme ai capi di Stato Maggiore delle tre armi egli si mise subito al lavoro per redigere personalmente la lista delle sue richieste. Ciano, che non voleva la guerra, ricordiamoci, si mise a gongolare apertamente. Era una lista, scrisse nei suoi diari, in grado di tramortire un toro se la potesse leggere. Una lista, va detto, che rivela l'intenzione segreta di Mussolini di costringere Hitler a respingerla. Ed ecco l'elenco della famosa lista del Molibdeno. Allora, carbone 6 milioni di tonnellate, acciaio 2 milioni di tonnellate, petrolio 7 milioni di tonnellate, legno 1 milione di tonnellate, rame 150 mila tonnellate, nitrato di sodio 22 mila tonnellate, sali potassici 70 mila tonnellate, colofonia 25 mila tonnellate, gomma 22 mila tonnellate, toluolo 18 mila tonnellate, essenza di trementina 6 mila tonnellate, alle quali vanno aggiunte 10 mila tonnellate di piombo, 7 mila di stagno, 5 mila di nickel, 600 di molibdeno, eccola la lista del molibdeno, Ciano disse chiaramente ma cos'è sto molibdeno, no, non lo so, Ciano disse chiaramente non so cos'è il molibdeno, ma va bene così, dicevo, 600 tonnellate di molibdeno, 600 di tungsteno, 20 di zirconio, e 400 di titanio, ok? A questa lunga lista Mussolini aggiunse ancora di sua personale iniziativa la richiesta di 600 pezzi di artiglieria contraerea, in totale si trattava di 16 milioni e mezzo di tonnellate per il cui trasporto sarebbero stati necessari almeno 18 mila treni, in pratica un traffico ferroviario di 50 treni al giorno per un anno. Ah, Hitler in un primo tempo si disse disposto ad esaudire parzialmente le richieste italiane, ma quando si rese conto che dall'altra parte non c'era nessuna volontà di seguirlo, accettò la sconfitta con diplomazia. Scrisse al duce «Vedo con mio dispiacere che il soddisfacimento del vostro desiderio non è possibile per ragioni tecniche». E te credo io, 50 treni al giorno, cioè, insomma, diciamo, un treno ogni 20 minuti circa, ecco, per un anno intero, insomma, diciamo che è un po' difficile accontentare queste richieste e Mussolini lo sapeva benissimo, lo sapeva, lo sapeva. Ripeto, Duce, io comprendo la vostra situazione e vi chiedo soltanto di tenere impegnate, in base alla vostra stessa proposta, le forze anglo-francesi mediante una efficace propaganda e mediante opportune azioni militari dimostrative e con questa sua risposta Hitler aveva dato il suo placet alla non belligeranza italiana. Allora, la famosa lista del Molibdeno è uno dei tanti, come dire, aneddoti, è una delle piccole cose di cui un po' tutti hanno sentito parlare, ma che, diciamo, in pochi conoscono esattamente. Allora, le richieste, le richieste che necessitavano all'Italia, cioè, insomma, questa richiesta spaventosa, enorme, questa spaventosa richiesta di materiali che fece l'Italia per dire all'alleato noi abbiamo bisogno di materiale, di materie prime. Siamo un paese povero, siamo un paese arretrato, siamo un paese che si è dissanguato in Etiopia, che si è dissanguato economicamente e materialmente in Etiopia e in Spagna. Abbiamo bisogno di prepararci, abbiamo bisogno di riorganizzarci. Li mandiamo, mandiamo al nostro principale e unico alleato, una lunga lista di cose che ci servono, dal molibdeno al tungsteno al titanio al carbone all'acciaio eccetera eccetera perché, tanto lo sapete bene, l'Italia dell'epoca era un paese povero, era un paese arretrato, era un paese la cui economia era in spaventosa difficoltà a causa della sventurata sventurata dello sventurato avventurismo politico del Duce in Spagna e in Etiopia. Se ben vi ricordate, qualche tempo fa ho recensito questo libro L'impero ombra di Hitler di Pierpaolo Barbieri, un libro in cui il ricercatore argentino analizza il modo in cui la Germania si incuneò in Spagna togliendo di mezzo come dire le ambizioni italiane di controllare la penisola iberica e di sfruttare l'economia spagnola per le proprie necessità. Mentre noi buttammo veramente un mare di soldi un mare di materiale di mezzi preziosissimi e insostituibili che come dire non furono mai ripianati. Noi praticamente buttammo via l'equivalente di qualche miliardo di euro assolutamente per nulla. Aerei uomini mezzi esplosivi denaro eccetera 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 tutto rimase in Spagna senza avere praticamente una contropartita di alcun tipo contropartita che come dimostra Barbieri nel suo libro i tedeschi seppero sfruttare decisamente meglio di noi con capacità con mancanza di scrupoli con assoluta volontà predatoria alla faccia nostra detta così come la lista del molibdeno insomma questa questa pantagruelica questa gigantesca richiesta di aiuti fatta all'alleato tedesco dimostra essenzialmente la scarsa voglia del duce di impegnarsi nel 39 in guerra due dimostra come il duce sapesse benissimo e ce lo dimostra anche Barbieri quanto fossimo indietro quanto fossimo impreparati quanto fosse disastrosa la situazione delle casse statali la situazione delle nostre forze armate la lista del molibdeno noi abbiamo bisogno di queste decine di milioni di tonnellate di materiale per essere pronti alla guerra quando? nel 42 43 in base agli accordi in realtà come sappiamo bene Hitler se ne fregò allegramente perché sapeva benissimo che Mussolini non poteva far altro che stare zitto chinare la testa e obbedirgli dato che proprio per la faccenda della insomma mettiamola così per tutti gli anni 30 l'Italia fu realmente il prototipo dello stato canaglia ok finanziamo movimenti terroristici nei Balcani Eustacia l'attentato di Marsiglia che vide la morte del re di Jugoslavia con il ministro degli esteri francese quello era stato organizzato dagli Eustacia addestrati in Italia ok la politica antifrancese del governo italiano ne ho parlato più volte l'inutile conflittualità tra l'Italia e l'Inghilterra per la faccenda dell'impero etiopico e dell'intervento in Spagna tutte cose questo avventurismo ripeto la creazione dell'impero l'avventura di Spagna la conquista dell'Albania eccetera eccetera tutte cose che contribuirono al disastro economico dell'Italia poco prima dell'entrata in guerra nel 1940 l'Italia era un paese economicamente in ginocchio perché l'avventura in Spagna ripeto questo libro l'impero ombra di Hitler di Pierpaolo Barbieri che è uno dei pochi tradotti in italiano che ne parla sulla politica economica del Terzo Reich e sulle difficoltà affrontate dall'Italia per tenere testa ad un alleato così ingombrante e soprattutto così spietato e predatorio sempre nei nostri confronti ok e ripeto le difficoltà economiche materiali dell'Italia per riorganizzare le proprie forze armate ripeto ci furono tante cose sbagliate la scelta della Marina di puntare sulle grosse unità per una politica di flotta in potenza la scelta dell'aeronautica di rinunciare allo sviluppo dei motori in linea per puntare tutto sui motori radiali l'incapacità delle nostre forze armate di addestrare ed equipaggiare convenientemente un esercito per una guerra moderna la scelta di puntare praticamente tutto su cose tipo i carri L3 per la guerra di usare i carri L come carri armati invece che come mezzi esploranti il nerbo delle nostre forze corazzate erano i carri L nel 1939 1940 poco da dire e poco da fare è tutto qui la retratezza del sistema paese la retratezza del sistema industriale italiano Mussolini lo sapeva lo conosceva perfettamente la lista del molibdeno le richieste fatte a Hitler ne sono una prova e lo stesso Ciano che gongolando disse veramente se un toro fosse in grado di leggere questa lista ne rimarrebbe tramortito ironizzando proprio sulla storia del molibdeno ripeto il diario di Ciano per quanto discutibile come documento è utile per capire soprattutto l'atmosfera che girava nelle alte sfere del regime e una volta confrontati confrontate le dichiarazioni di Galeazzo con quelle degli altri diari degli altri gerarchi a noi conosciuti le carte di Balbo quelle di Bottai quelle di Grandi eccetera 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 si ha un quadro completo del fatto che le alte sfere del regime sapevano benissimo quanto noi fossimo impreparati alla guerra che si prospettava Mussolini sperava che Hitler tenesse fede alla parola data e andasse in guerra nel 42 43 ma in realtà Hitler aveva fretta perché perché la sua economia drogata l'economia tedesca drogata dal riarmo solo soltanto e solamente riarmo inutile che hai la piena occupazione se tu fabbrichi soltanto armi e i soldi non girano perché vengono investiti solo nel riarmo tu quelle armi le devi usare per predare i vicini e quindi pagare i tuoi fornitori perché se no tutto sarebbe andato a ramengo dovrò fare un video sui famosi mefo vexel ma qui chiedo aiuto a voi signori che cosa ne pensate della lista del monibdeno che cosa ne pensate della politica economica del terzo reich che cosa ne pensate di come dire quello che capitò alla nostra economia per colpa delle avventure in spagna ed etiopia tocca a voi signori quindi qua sotto commentate 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 fatemi sapere che cosa ne pensate fatemi sapere le vostre opinioni aggiungete correggetemi spiegatemi e insomma aspetto i vostri commenti quindi cari signori come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao ah dimenticavo commentate 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 grazie ciao di nuovo